Mentre l'Avellino giocava contro la Casertana, il direttore De Vito era a lavoro per il calciomercato, consegnando a mister Taurino un nuovo profilo per l'attacco e liberando una spunta nella casella Esuberi. Infatti i biancoverdi sono vicini a chiudere lo scambio con la Juve Stabia tra Daniele Mignanelli e Tommaso Ceccarelli. Il terzino sinistro, dopo un solo anno d'Avellino, poco brillante all'ombra di Fabio Tito, lascia i lupi per approdare alle Vespe. La Juve Stabia infatti ha un grande bisogno di un terzino sinistro e allora De Vito ha fiutato all'affare, portando in biancoverdi un esterno d'attacco come Ceccarelli Romano, classe 92, cresciuto nelle giovanili della Lazio a Girovagato in Serie C, facendo molto bene alla Feralpi Salò al primo anno con 7 gol, al Prato con 12 reti, passando poi all'ambizioso Monza, 5 gol per lui in bianco rosso, salvo poi ritornare alla Feralpi dove in due anni mette a referto 12 gol e 11 assist. La parentesi, poco felice al Catania, giunge a gennaio alla Juve Stabia, 13 partite, due reti. Jolly offensivo, Tommaso Ceccarelli, già vicino l'anno scorso a vestire la maglia dell'Avellino, mancino naturale che predilige giocare sulla corsia di destra, è bravo sui calci piazzati e può giocare anche da trequartista, dando così maggiori soluzioni a mister Taurino che ieri in sala stampa a precisa domanda non ha smentito una trattativa che sembra prossima alla chiusura. Andrà ad arricchire la batteria di Ali composta già dai giovani Guadagni e Russo e dai più affermati Canutè e Di Gaudio.